Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Le biciclette possono salire sulle carrozze centrali e vanno tenute ben salde a mano. Ai tornelli le bici passano al centro dell'atrio e per scendere sulle banchine si usa l'ascensore. Infine è in funzione nei municipi primo, secondo, dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo un nuovo sistema di prenotazione del turno agli sportelli degli uffici anagrafici. Si tratta dell'app Chiorami, scaricabile gratuitamente, che permette di evitare la fila agli sportelli. Grazie a tutti.